Mi dice, prima di ricordarmi tutto, mi hanno confiato. Ti posso. È vero. Perché? Perché siamo nella fase di apprendimento. La fase di apprendimento è una fase meccanica. Come ti dicevo prima, la tecnica non è fine a se stessa. A me non mi interessa che tu sull'attacco faccia questo e poi lo riproduca in ogni situazione. Perché non è possibile. Perché cambia l'avversario, cambia la stazza, cambia il contesto operativo in cui sono. Quindi è un po' come il discorso della posizione di guardia. La posizione di guardia non esiste. Perché se io devo combattere, combatto qua, se vai a prendere alcuni stili di karate, si combatte qui. Se vai a prendere il confu, ti fanno questo. Quindi in base allo stile, in base al contesto, in base ai bisogni, cambia l'atteggiamento. Oggi si parte tutti da qui. Cioè il contesto operativo è questo. Una cosa di difesa. Io sono a giro, esco dalla macchina, è un suono Super Mario che vado a giro così. Ok? Io vado a giro qua. Se l'azione inizia, si schiena. Solo sta a giro. Non lo so cosa fa. Ok? Mi muovo. Per cercare il bersaglio, io non lo sto guardando nello specifico. Ok? Sto vedendo che si muove, percepisco un'azione. E la chiudo. Ok? Non vado a cercare un'azione predefinita o precostruita. Seguo cosa succede. Come? Sensazione. L'esperienza. Visione d'insieme. Io non guardo lui. Guardo tutto. Percepisco lui. È diverso. Se muovo un braccio lo vedo, se muovo un piede lo vedo. Lo anticipo. Ok? Non vado a cercare questa didattica. Vi serve per apprendere quanto spazio occupate, la coordinazione braccia-gambe, la proiezione, il corpo umano, tutto quello che serve al combattimento. Ma il combattimento, questo, non vi serve. Vi serve questo. Dentro. Diventi vostro. Quanto ci vuole? Non lo so. Io ho iniziato, avevo 11 anni, quest'un anno sono 30 anni. Ha capito? E poi c'è sta roba. Allora. Qualcosa. Qualcosa ho capito. Ma non è che da un giorno all'altro si svegli e c'è il sapere infuso. Io continuo a andare già da gente che ne sa più di me e continuo a studiare. Ok? Questo è il concetto.